145 괜찮아요? no, grazie 146 천 mane요? prego 147 실례합니다 mi scusi 148 메뉴 주세요 per favore 149 계산서 주세요 per favore cento cinquanta 어림없는 소리 mai cento cinquantuno 안녕하세요 ciao salve cento cinquanta due 잘 가요 ciao addio addio cento cinquanta tre 곧 보자 ci vediamo cento cinquanta quattro 좋은 하루 보내시길 buona giornata cento cinquanta cinque 환영합니다 benvenuto cento cinquanta sei cento cinquanta sei pronto? cento cinquanta sette 이고서요 questo cento cinquanta sette 이고서요 questo cento cinquanta otto 저것으로요 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 cento cinquanta nove 아, 안 돼 어, 안 돼 cento sesanta 좀 이상하네요 è strano 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 è strano